eccoci in diretta live tanto sicuramente siamo partiti e non eccoci non l'hanno beccato sarà sempre il solito maleducato che parti col telefono in mano perché mi hai appena inviato ciò di cui andremo a parlare oggi cioè le raccomandazioni ad hollywood è un tema talmente nuovo che non si è mai parlato di raccomandazioni siamo arrivati un po in ritardo tant'è che ho scoperto che le zia zabetta ne avevano già parlato veramente c'è quindi stiamo facendo scoprirlo tu cioè dovete essere attento seguire tutti i giorni la programmazione dice io ho tempo da buttare su zia zabetta va beh ma direi che siamo molto carichi quindi se la regia è pronta mandiamo solo la sigla si dai 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 eccola carina sta cosa hai visto hai visto di chi è di vice però vice UK che schifo vice UK nepo babies questo è quello che ha fatto Loki Tom Hiddleston si il primo che appare che in effetti è britannico se non sbaglio è britannico può essere perché c'è c'è un po la faccia da britannico comunque sì sì e no volevo dire poi la puntata di zia zabetta non l'ho voluta vedere per evitare di copiare magari bravo farmi influenzare troppo io non lo sapevo risultare ripetitivo poi noi parliamo soprattutto di Hollywood so che loro hanno parlato in generale delle celebrità così un po più a 360 gradi mentre noi ci concentriamo più sul mondo del spettacolo in ritardo ovviamente come ma più che altro perché sto tema dei nepo babies me l'aveva proposto boh uno due mesi fa sì un mese e mezzo fa sì poi forse quasi due ormai siamo qua eh direi di sì vabbè ma non è un caldo e poi è rimasto lì è rimasto sepolto nella programmazione abbiamo tenuto da parte poi c'è stato Natale c'è stato esatto il periodo del mentalizio avevamo mille robe il panettone lo champagne però adesso ne possiamo parlare tanto comunque è un tema universale a me fa ridere un sacco che come riferimento abbiamo soprattutto l'articolo del posto che mi fa spezzare il titolo i più giovani hanno scoperto il nepotismo di Hollywood tu sei tra questi lo sai no ma io tu sei catalogato cioè non è che l'ho scoperto è una cosa che si sa eh ma per loro no no ok lo intendevano a parte che qui parla dei giovani di tiktok io non ho tiktok tu non hai tiktok quindi non rientri in quella categoria nonostante mi hanno sequestrato l'immagine per mettere nei reel nei reels nei vari video di tiktok dovresti entrare anche tu nella community di tiktok insieme a noi che abbiamo un sacco di cose da condividere su tiktok che peraltro ha un algoritmo che non capisco ma non vogliamo parlare di tiktok in questo momento tu non vuoi sapere come funziona l'algoritmo di tiktok ci sono cose che è meglio non conoscere sicuramente ha dei gusti i gusti della gente che sa su tiktok sono completamente opposti ai miei perché io posto delle robe che dico ah questa è carina fa male questo è il dilemma atavico del creatore di contenuti online non ha senso ma non parliamo di contenuti parliamo di nepo babies nepo babies che sta per bambini nepotisti è una combo tra nepotismo e bambini baby ah poi già accenniamolo a un certo punto ci sposteremo su una parentesi oscar così trattiamo un po' queste nomination che sono uscite il fatto è che fare un'intera live non riuscivamo no io ho visto qualche tre non è che abbiamo troppissimo da dire avendo anche visto poca roba però comunque è giusto accennare però ho visto che c'è vabbè ma ne parliamo dopo dai parliamo di nepo babies nepo babies allora tot tempo fa tot tempo fa nasce questa polemica ormai due mesi fa forse addirittura tre mesi fa polemica sui nepo babies sul new york magazine esce fuori questo articolo che è intitolato appunto nepo babies dove si parla del fatto che molte celebrità sono tali sono diventate sono entrate nel mondo del cinema perché erano parenti amici o conoscenti di persone già inserite che fossero attori e registi o addirittura magari gente inserita nell'industria c'è anche industry baby esatto industry baby e questo questo giornale questo articolo che faceva un po' una disamina su tutti i vari nepo babies e le come dire l'albero genealogico che li ha portati appunto al successo ha creato molto scalpore online perché molte persone cioè nel senso il nepotismo in generale è un qualcosa che già si conosce già si sa però tanto tempo in memore a quanto pare molti soprattutto tra i più giovani online sono rimasti stupiti dalla quantità di nepo babies appunto sì secondo me proprio dal fatto che ci sia nepotismo che ci sia nepotismo ad Hollywood ma guarda il nepotismo è una di quelle cose che comunque è il segreto di pulcinella nel senso involontariamente sai che esiste il fatto è che magari uno non ha proprio contezza della portata di questo fenomeno e quindi molti secondo me sono rimasti colpiti più che altro dal fatto che così tanti attori registi produttori eccetera siano figli d'arte ma può essere però ho letto anche che soprattutto in America ad Hollywood sì no scusa soprattutto in America in generale riferito in questo caso ad Hollywood ma poi l'articolo in realtà tutto non l'articolo ma tutto il il numero di New York New York Magazine mi sembra tutto il numero è dedicato a la questione nepotismo ma non solo cioè l'articolo principale tratta di Hollywood però tutto il numero parla di nepotismo in genere era il tema di copertina proprio di questo proprio un tema in vari settori e poi hanno fatto un articolo particolare che ha riscorso particolari polemiche per quanto riguarda Hollywood è uscito circa a metà dicembre credo il 19 19 mi pare però ho letto che in America e questa cosa in realtà secondo me è vera perché si rispecchia un po' nel sogno americano il sogno americano dice se tu lavori sodo e insomma ti impegni e hai le skill eccetera alla fine ce la fai e il fatto che esistano i nepo babies è in contraddizione con questo diciamo come si dice questa frase scolpita nella pietra cioè non so questa cosa va un po' contro questa regola questa regola questo principio non mi veniva il nome il termine va contro questo principio tra l'altro il sogno americano non so se lo sai però comunque ha origini diciamo nell'ambito religioso nel senso che il calvinismo fu una delle delle principali filosofie promotrici dell'idea che nel momento in cui se tu ti impegni e raggiungi determinati risultati vuol dire che Dio ti ha predestinato a quei risultati e quindi tu sai sostanzialmente come dire mettendo in atto il disegno divino io sapevo che il sogno americano probabilmente nasce da più fattori perché io sapevo anche sì sì no poi ovviamente è una cosa che si evolve quindi sicuramente prende questa cosa qua all'altra cosa da qui dove arriva il sogno americano è il fatto che in america una volta che sono arrivati in america l'america era una terra sconfinata la corsa alla frontiera e quindi dove tutti avevano c'era possibilità per tutti tra virgolette cioè quindi nella cultura americana c'è questa idea che io quello che guadagno io non toglie niente a te e quello che guadagno io è meritato perché me lo sono guadagnato e cose di questo tipo ma tra sì ma è semplice è un insieme di concomitanze storiche che nel senso gli Stati Uniti proprio come territorio come geografia e anche cultura di chi poi è arrivato a colonizzare è stato proprio il terreno fertile di questa filosofia di questo modo di vedere il mondo per cui lo scopo è raggiungere il massimo possibile della vita che puoi realizzare perché in qualche modo sei predestinato a farlo e poi devo dire che secondo me c'è anche una sorta di rivincita nel senso che tutti quelli che sono arrivati all'inizio in America arrivavano da condizione disastrosa qua in Europa quindi loro vanno vanno lì per trovare sì ma tra l'altro si parte dai coloni che appunto dovevano colonizzare le nuove terre dovevano esplorare un po' questo territorio sconfinato poi è arrivato il fenomeno dell'immigrazione che ha ulteriormente come dire potenziato questa retorica perché molti immigrati ovviamente fuggivano dalle situazioni di disagio come dicevi per andare nella terra delle opportunità che era appunto gli Stati Uniti poi ovviamente è stata anche una sorta di mossa pubblicitaria per un certo periodo gli Stati Uniti hanno cercato il più possibile di attirare sempre più immigrati appunto a mano d'opera poi schiavitù e cose di questo tipo vabbè la cosa è un po' degenerata comunque io non sono un fan della cultura americana da questo punto di vista e quindi diciamo che un fenomeno come quello del nepotismo che in Italia possiamo dirlo lo diamo quasi per scontato cioè per noi è una cosa che culturalmente non è che ci colpisca più di tanto perché lo sappiamo ci indigna però sì ci indigna quotidianamente nel senso non è non è il discorso di un per scontato e quindi ci arrendiamo a questa cosa diciamo che non cadiamo dal pero non ci sorprende esatto mentre invece in America capisco che magari proprio per questo discorso del sogno americano molti vengano un po' colpiti da questa cosa poi ovviamente più hai anni di vita di esperienza più è facile che certe dinamiche tu le conosca e quindi magari più giovani appunto un po' più illusi rimangono colpiti esattamente per usare quel termine cioè un po' una sorta di creazione dell'illusione col sogno americano e poi magari ti mettono davanti dati tipo questo di Hollywood l'epotismo ad Hollywood e tu dici ah ma com'è possibile è perché ti hanno alimentato prima facendoti credere delle cose che poi nella realtà non sono vere cioè o meglio più che non sono vere esatto il fatto è che la realtà è molto come sempre è molto più complessa di quello che crediamo e quindi tendiamo a raccontarci delle delle narrazioni molto semplici sia il sogno americano ma anche lo posso nel senso credere che sia tutto unicamente nepotismo tutto unicamente manovrato da chi ha la possibilità di farlo a proposito di questa cosa è un po' più complesso l'intervista di Elle a Lily Rose Depp che è la figlia di Johnny Depp una nepo baby una nepo baby tra l'altro che lei di fronte a queste polemiche lei ha dichiarato niente ti farà ottenere la parte se non il fatto di essere giusto per quella parte in realtà allora ci sono non è che la proprio allora ci sono diversi fattori da tenere in conto innanzitutto io tenderei a a ridimensionare la gravità del discorso del nepotismo nel senso che sono il primo a dire che la cosa più giusta ovviamente è un sistema di meritocrazia in cui una persona è lì perché effettivamente è solo media perché effettivamente è qualcosa che si è guadagnato e non perché qualcuno l'ha spinto però mi rendo conto che è sostanzialmente impossibile pensare che in qualsiasi contesto non ci sia qualcuno che sia un po' più avvantaggiato che poi non è solo un discorso di nepotismo perché tu puoi dire sì sei figlio di x attrice x attore e allora sei più avvantaggiato ma anche banalmente il fatto che uno nasca a Los Angeles lo rende molto più avvantaggiato rispetto a uno che nasce nel Midwest sulla meritocrazia e sulla inesistenza della meritocrazia abbiamo fatto una puntata a fluidi di testa se volete recuperarla quindi purtroppo la meritocrazia è un ideale a cui bisogna ambire ma non può essere una regola proprio materialmente è impossibile che si raggiunga la perfetta meritocrazia perché tu dovresti davvero avere contesti in cui tutti sono nelle stesse identiche condizioni ma non tanto di vantaggi o svantaggi ma proprio semplicemente di condizione culturale condizione oddio non mi sento basta hanno mutato giustamente Jacopino sparando troppe cazzate che succede? allora a parte questi sadotaggi che non tollero Sara con l'H che non ti vuole far parlare no dicevo non è semplicemente un discorso di vantaggio o svantaggio discriminazione o cose del genere ma anche semplicemente io mi trovo in un contesto che per varie ragioni è per forza ti rende per forza più facile alcune cose come detto nascere a Los Angeles inevitabilmente ti rende molto più facile accedere al mondo del cinema ma non è che chi nasce in Montana è discriminato semplicemente geograficamente è un'altra cosa se ci fosse un Hollywood per ogni stato americano ok sarebbe già però non è esattamente fattibile come cosa e quindi in generale la meritocrazia è un ideale come detto a cui bisogna ambire che bisogna in ogni modo secondo me favorire cercare di appianare certe disuguaglianze ma inevitabilmente il fatto stesso di nascere in un contesto di un certo tipo per forza di cose ti espone a maggiori possibilità e non è neanche necessariamente sempre sbagliato perché comunque innanzitutto è naturale che un genitore che ovviamente vuole il meglio per il proprio figlio nel momento in cui vede che il proprio figlio è interessato al mondo della recitazione e se è un attore famoso cercherà ovviamente di dargli una mano è una cosa che umanamente è una cosa che è comprensibile ma io non condanno onestamente non condanno cosa è un nepotismo cioè secondo me è grave il nepotismo quando nonostante la persona non abbia delle caratteristiche per quella cosa lì la si faccia fare perché figlio di quella roba lì assolutamente la trovo ma la trovo anche sbagliata ma anche probabilmente per anche per l'individuo stesso cioè probabilmente non era neanche magari non è neanche quella cosa che gli risuona di più magari poteva fare altro ma all'interno del contesto familiare alla fine è stato portato in quella direzione anche se magari a lui gli importava fino a un certo punto quindi è un discorso un po' un po' più complesso però certamente l'altra cosa che non mi fa impazzire quando è palese che cioè è palese è molto probabile che se tu sei la figlia di Tizio e Caio conosciuti questo avrà un come dire un un risvolto quando vai a fare il provino o addirittura magari prima nella preparazione del film che ne so io già si pensa al casting cose di questo tipo dire che è solo cioè che che non è che non è assolutamente vero che il nome dei tuoi genitori la posizione dei tuoi genitori abbiano in alcun modo intaccato la tua cioè è un po' una nascondersi dai certo raga posso dire una cosa sentiamo allora secondo me innanzitutto tu sei una nepo baby no ok perfetto allora no non puoi parlare ah perché se no era interessante magari c'era lo zio no scherzo però dico che secondo me non è sempre una cosa positiva avere qualcuno tipo mettiamo a caso il cantante suo padre fa il cantante e lui vuole fare il cantante non è sempre positivo tipo la famiglia De Andrè cioè se tu hai un nome così importante devi comunque mantenere le aspettative del resto su De Andrè so cose no no sul figlio di De Andrè tra l'altro so cose che meglio non divulgare eccessivamente quindi non è sempre positivo cioè ovvio che se tu vuoi fare l'attore tuo padre è un attore famoso ti aiuta però non è sempre una cosa buona posso essere d'accordo ma qui ritorno allora mi riaggancio al discorso che ho fatto prima nel senso di dire a volte magari vieni indirezzato in determinati contesti non tanto perché tu sei follemente innamorato di fare quella cosa ma perché sei stato portato per la mia ragione non sono state viste non ne sono state viste altre no secondo me no perché magari tu nasci ho detto che è sempre così ho detto che può succedere ovvio che se tuo padre fa il cantante tu da piccolina hai visto questa cosa sempre quindi magari ti avvicini molto di più al mondo della musica che al mondo dello sport mettiamola così però secondo me non è sempre così no infatti non ho detto che è sempre così però per come le messaggi sembrava ho proprio detto specificatamente che non è sempre così però ho detto può succedere ok c'è una percentuale di persone che magari sono state indirizzate in quel modo mi viene in mente questo scenario ma ce ne possono essere altre n.mila no ma allora io qualche tempo fa ero abbastanza fissato con il mondo del doppiaggio italiano e quindi seguivo questa fortunatamente questa passione ti è svanita sono contento no no mi è rimasto però è un po' meno come dire pressante meno pressante allora e praticamente seguivo spesso questo questo canale youtube che in realtà è più esteso su altri social che si chiama Radio Cigliano che è una radio gestita da Alessio Cigliano che è un doppiatore anche abbastanza famoso con una carriera molto fornita diciamo e in questo quindi il nostro collega alla fine dei conti dicevo in questo podcast lui intervista spesso doppiatori sia ovviamente più del mondo di Roma del doppiaggio di Roma perché lui è di quella zona lì però ogni tanto qualche doppiatore di Milano viene a fare anche lì delle interviste e molti dei racconti di questi doppiatori perché poi in Italia per la maggior parte nel mondo elettoriale funziona un po' così la storia era appunto mio padre mia madre mio zio eccetera erano doppiatori attori direttori di doppiaggio eccetera e da piccoli magari per mio interesse o perché avevano provato loro a inserirmi dentro mi hanno inserito poi pian piano nel corso del tempo sono effettivamente diventato un doppiatore eccetera eccetera la cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che tutte queste storie però non erano semplicemente ero figlio di e allora sono diventato doppiatore ma erano ero figlio di quindi ho iniziato con qualche provino magari come voce nei cori o voci di sottofondo poi magari qualche piccola parte come personaggio magari un bambino un ragazzino di sfondo nella storia poi pian piano ho iniziato effettivamente a studiare recitazione a fare provini più seri eccetera eccetera e quindi ti raccontano comunque che il fatto di essere figlio di tendenzialmente era semplicemente un modo per entrare in un in quel mondo ma poi effettivamente per diventare doppiatore c'era tutto un percorso di di apprendimento di studio di fatica che comunque non va sottovalutata anche se sei figlio di nel momento in cui comunque per arrivare a un certo livello devi per forza sbatterti non è che si può non è secondo me giusto sminuire lo sforzo che una persona fa semplicemente perché all'ingresso è stato avvantaggiato poi certo ovviamente in Italia ma come in altri posti se sei figlio di è più facile entrare questo ci mancherebbe altro questo secondo me è proprio in generale nella vita è così perché stiamo guardando il mondo del cinema ma in realtà anche altri settori è la stessa cosa il fatto è che una persona comunque che non è figlio di e che semplicemente è interessata al mondo della recitazione del doppiaggio e vuole entrare in quel mondo può farlo e ci sono un sacco di doppiatori che partono sostanzialmente da zero ovviamente però devono comunque hanno del percorso di fatica devono farlo e hanno semplicemente l'ostacolo dell'ingresso che non vuol dire che non possono entrare ma sono meno spinti hanno delle difficoltà in più cioè a parità di lavoro di preparazione ovviamente una persona che ha delle conoscenze che all'interno dell'industria qualunque essa sia è sicuramente più avvantaggiata rispetto all'altra questo è indubbio ora questo non vuol dire che bisogna fare una colpa cioè come dire tu hai tuo padre che fa regista allora non usare questa cosa perché se no sei uno stronzo se ce l'hai non è che devi fare una colpa perché tuo padre è regista è così pace te ne parla la ragione ovviamente non è non si può dire che è colpa di come si chiama la tipa se no anche la figlia di Johnny Depp Lily Rose Depp ok non è colpa di Lily Rose Depp basta che però non mi venga a dire al massimo si può dire è colpa di Johnny Depp perché è stato un po' ingiusto inserirla avvantaggiare però anche lì se proprio bisogna trovare una colpa la colpa semmai è di Johnny Depp ma secondo me la colpa non è di nessuno quello che secondo me va chiarito sul discorso dei Nepo Babies è che è un fenomeno che sicuramente è interessante analizzare interessante approfondire eccetera però non deve arrivare a una demonizzazione dei Nepo Babies infatti secondo me la colpa non è di nessuno né dei dei Babies né dei genitori o chi per esso che li agevola però l'importante è che non si faccia un reticare da mercante e si dica ah no il fatto di avere i genitori non mi ha mai e poi mai avvantaggiato sono uno come un altro come quell'altro che non ha nessuno cioè è una cazzata quindi questo è un giorno Lily Rose Depp dovesse vincere un Oscar è un suo merito lì non è dipendente dal fatto che sia un Nepo Baby poi ovviamente non fosse stata inserita magari non avrebbe mai fatto l'attrice però anche lì tra l'altro ho scoperto che sono discorsi che lasciano un po' il tempo che trovo ho scoperto che Jimmy Lee Curtis o Curtis non so come si chiama che ha fatto tra l'altro True Lies è figlia dell'attrice che ha fatto Psycho e di Tony Curtis che ha fatto Qualcuno Piace Caldo che però io non ho mai visto ma ho sentito come titolo e ha detto che questa cosa del dibattito sui Nepo Babies è stato studiato per provare a sminuire e denigrare e offendere i Nepo Babies ecco quello è un po' perché poi si iniziano iniziano ad entrare queste dinamiche di invidia sociale per cui magari tu avresti voluto il tuo sogno da bambino era fare l'attore non ci sei mai riuscito perché in realtà non ci hai neanche mai provato e poi te la prendi no perché magari per n mila motivi il fatto che una persona riesca a fare ad arrivare ad Hollywood cioè sono n tu prendi nel senso tendenzialmente chi arriva a detestare qualcuno perché ha raggiunto qualcosa che tu non sei riuscito a raggiungere a meno che non sia tu non ti trovi in un'evidente situazione di svantaggio vabbè tendenzialmente anche un po' perché ti senti colpevole di i tuoi fallimenti ma no e quindi secondo me ci sono troppe variabili per poter dire è il tuo il fallimento cioè non la metterei sotto questo aspetto nel senso che ovviamente chi ti spinge o anche banalmente la fortuna giocano un ruolo importante però io sono sempre dell'opinione che la fortuna ha meno impatto quanto più ti sbatti nel senso che per arrivare a un certo livello qualsiasi cosa qualsiasi diciamo traguardo di successo o anche di potere eventualmente se parliamo di politica qualsiasi obiettivo che sia arrivare più in alto in qualche modo ovviamente si basa molto sulla fortuna ma è questo in qualsiasi campo anche i più grandi geni del mondo magari devono devono magari a determinate scoperte anche un po' una botta di culo che hanno avuto che possa essere avere a che fare con una determinata persona che poi li ha aiutati nel corso del tempo oppure trovare un contesto che gli ha permesso di far fiorire le proprie capacità quindi ovviamente la fortuna c'è ed è stupido negarlo il problema è che però come dire ci sono casi in cui la fortuna è letteralmente la botta di culo nel senso è quasi impossibile che succeda quella cosa eppure succede il vincere il super enalotto e casi in cui semplicemente c'è una buona probabilità o comunque una discreta probabilità che tu riesca a fare quella cosa ed effettivamente ci riesci e se parliamo di una persona che vuole fare l'attore però ipotizziamo non ha mai fatto effettivamente recitazione o magari ha fatto qualcosina a scuola eccetera lì è ovvio che se diventa un grande attore c'è una grossa componente di fortuna nel caso invece di una persona che effettivamente studia da tutta la vita recitazione effettivamente cerca di fare diversi progetti che possono essere dei corti da mandare a dei bandi o a dei concorsi eccetera ed effettivamente dedica molto tempo a questa cosa a questa passione e a creare i giusti contatti perché poi ovviamente in questi contesti avere i contatti giusti serve non è lì non è neanche una questione di nepotismo o altro o raccomandazioni semplicemente sono contesti in cui la rete di persone è quasi necessaria se tu sei bravo a fare queste cose è ovvio che poi c'è una componente di fortuna nel fatto che tu venga preso per il prossimo film della marvel che cazzo ne so ma è una fortuna che comunque hai il cui impatto diciamo hai ridotto di molto grazie alla tua alla tua perseveranza sì no va bene va bene ok però quello che dico io è sono d'accordo in parte nel senso che poi ci sono altri mille fattori che non dipendono da te cioè tu puoi prepararti puoi impegnarti puoi metterci l'anima però se non hai il viso per fare un determinato ruolo se non hai un'altra ruota cioè sono troppe le variabili che non sono sotto il tuo controllo cioè tu l'unico controllo che hai è su quello che puoi fare tu circa perché c'è anche un discorso di consapevolezza nel senso facciamo l'esempio banale che hai detto tu non hai il viso giusto è ovvio che per molti ruoli magari non hai il viso giusto nel 2023 poi quando si nata nel 1850 no che non c'era ancora il cinema tra l'altro nel 1920 magari avevi il viso giusto cazzo ne so tra l'altro anche banalmente non hai il viso giusto per molti dei ruoli di Hollywood del cinema eccetera serve un determinato viso tu non rientri in quei cani ok però sta anche a te anche sta anche a te rendertene conto e dire ok non posso verosimilmente ambire a quel tipo di ruoli ma magari riesco in qualche modo a far sì che questo mio viso non sia uno svantaggio ma qualcosa che mi possa avvantaggiare in altri contesti magari uno che ha un aspetto non esattamente da che ne so l'uomo più bello del mondo non è esattamente Brad Pitt magari è un po' bruttino un po' un po' in carne ha il viso tondo molto simpatico fa il ruolo comico o magari un ruolo che non è quello del appunto dell'eroe muscolare ma il ruolo di magari un comprimario che possa suscitare simpatia non so sto un po' sparando posso aggiungere una cosa allora secondo me non è del tutto corretto dire che magari non hai il viso giusto certo ci sono i visi standard che sono tipo la ragazza bionda con gli occhi azzurri che tu la vedi nella pubblicità del mulino bianco che è lei perché è quello che vogliamo è Alice che vogliono ok però più sei particolare più funzioni adesso nel cinema su Netflix c'è anche quello ma questa non è una discussione su quale sia il viso cioè se ci siano dei criti è un esempio banale per dire che ci sono condizioni che tu non puoi agire a questo voglio arrivare se tu hai dei produttori con il regista che cercano una determinata cosa tu che fai in questo caso facciamo l'esempio dell'attore tu che sei attore e vuoi proporti tu di tutta quella fase di preparazione o entri dentro come attore nella fase di produzione e di creazione del progetto e allora ma è un altro discorso come dire Leonardo Di Caprio dice ok voglio fare un film con Scorsese però cioè si mettono lì loro due partono già da zero e vaffanculo vabbè così ok però se tu sei dall'altra parte sei una sorta di cioè sei un po' nelle mani della volontà ma non cattiva perché magari le altre persone hanno un'immagine in testa però ti spiego se tu se cercano un ragazzo cioè l'attore che deve essere tatuato perché deve fare il bad boy in quel film e servono i tatuaggi e tu sei senza tatuaggi il tuo agente non ti propone neanche per quel ruolo quindi secondo me infatti non stiamo parlando di questa situazione puoi mettere quelli lavabili non stiamo parlando di questo capito il senso secondo me cioè è giusto quello che dici che ci sono cose che non dipendono da te perché è vero cioè non è che tutto dipende da te però secondo me l'aspetto fisico no cioè non è un fattore nel cinema nel cinema si può dire che non c'è un aspetto fisico però ci sono così tanti ruoli questo è un altro discorso se no la ragazza bionda con gli occhi aggiori non posso farlo io infatti ti do assolutamente ragione Sara tra l'altro cioè quello che volevo dire prima appunto è che è vero che ci sono cose che non puoi controllare cioè se nasci in un modo con una determinata estetica ovviamente non è che puoi farci molto magari puoi fare un po' di chirurgia però costa però a parte quello sei troppo basso per fare il ruolo di attore il ruolo di un personaggio dell'NBA che cavolo ne so però sta anche a te rendertene conto essere consapevole di quali sono i tuoi limiti di quali sono i tuoi pregi di cosa effettivamente possa svantaggiarti e cercare di ribaltare la situazione io sono d'accordo ma io sto parlando già nella fase in cui tu sei consapevole non è detto che ti prendano perché magari nella testa di quello che sta progettando non c'è la tua faccia gli piace di più la faccia di un altro e a parità di preparazione quello che ti voglio dire tu sei consapevole di quella cosa non andrai mai a fare i provini per fare il nuovo supereroe Marvel perché ovviamente non ti prenderanno mai farai i provini per fare l'assistente di Spider il mio caso infatti il caso che sto portando ad esempio non è il fatto che come si chiama Joe Pesci vada a fare il provino per Thor cazzo è ovvio che Joe Pesci non farà un provino per Thor siamo d'accordo su questo Alice no tu vuoi un Joe Pesci Thor hai ragione effettivamente ripensandoci anche io quindi non sto parlando di quello io sto parlando già che è una persona con un minimo di criterio e la gente di turno che lo gestisce vada a fare un determinato provino per un ruolo che può calzare per lui ovvio ma poi non è che ovviamente non esiste la matematica certezza di nulla in questi casi cioè tu puoi andare con tutta la preparazione e la buona volontà di questo mondo poi ovviamente non è che ti prendano necessariamente poi ci sono ci sono un sacco di film dove magari i protagonisti che sono ormai scolpiti nella nostra memoria come quell'attore lì poi scopri che alle spalle c'era una sfilza infinita di attori altrettanto famosi che avevano provato effettivamente a far parte ad avere quel ruolo ma poi non ce l'hanno fatta perché nonostante fossero comunque attori ultra famosi eccetera non è certo per nessuno questa cosa qui che tu venga preso quello è assodato stiamo parlando comunque dell'ambito artistico nell'ambito artistico è ovvio che se tu fai di tutto per non cioè se tu fai tutto il contrario per sì per per avere succe per riuscire cioè se sei basso e ti proponi per i ruoli alti se devi fare l'attore non studi recitazione cioè se fai tutto il contrario è ovvio che non c'è è ovvio che ti stai tirando la zappa sui piedi però noi partiamo dal presupposto che ci sono tantissimi attori per dire che magari possono fare teatro ma difficilmente potranno fare cinema non perché siano meno bravi ma semplicemente perché magari hanno una fisionomia che ne è ricercata sì ma anche banalmente il loro modo di recitare non è adatto o non gli piace di più a loro che ne so io sono n.000 le robe sta ovviamente a anche lì la consapevolezza che ti dicevo non sta solo ovviamente nell'estetica o in altre robe simili ma anche nel capire esattamente cioè realmente cosa tu vuoi fare e cosa in cosa sei realmente portato è ovvio che se uno vuole fare l'attore comico ma poi nei fatti non fa ridere e anche cioè dovrebbe rendersene un attimo conto e dire ok forse evitiamo allora sto guardando chi è che che c'erano tra perché alcune non me le aspettavo onestamente vuoi fare qualche nome poi passiamo agli oscar vai allora sto guardando mcg ryan e dennis quaid suo figlio ha fatto hunger games e the boys non so jack quaid ah the boys la serie ah aspetta aspetta tu hai visto the boys la serie sì credo sia il protagonista sì jack quaid che è il mcg ryan e dennis quaid è un brotto che dennis quaid non mi ricordo mcg ryan però mi ricordo ma è il protagonista kiwi nella serie tu saprei che george cluney è uno dei un nepo baby no l'ho scoperto oggi rileggendo l'articolo vinet paltro angelica houston che non so chi angelina jolie lo so perché suo padre ha girato un po' di film jane fonda ben stiller drew barrimore tre figlie di mary stripp sono attrici però cos'è l'hanno citata ma vabbè lili rose depp l'abbiamo già citata e ah questo era interessante maya hawk figlia di attore figlia di uma turman e itan hawk ha un ruolo in stranger things sì sì è il personaggio di robin introdotto nella terza e quarta stagione e che secondo me è una brava attrice e anche in in un film di quanti tarantino c'era una volta ad hollywood ha fatto un mini ruolo forse ha fatto il ruolo delle ragazze sì una delle ragazze a margaret quale che è figlia di di persone importanti di mcdowell esatto mcdowell che l'amo margaret è veramente brava poi vabbè ci sono nomi famosi tipo Michael Douglas di Kirk Douglas sì sì eh beh sì no vabbè Douglas immaginiamo sai che in quel film ci sono altre sei nepo babies in quel film di tarantino sì cioè praticamente erano tutti i nepo babies vabbè c'era tutto il caster no poi anche Lily Collins è figlia di Philip Collins ma poi sai cosa mi hai fatto venire in Paris Philip Collins è il cantante sì esattamente mi è venuta in mente una cosa dicendo sta roba di Once Upon a Time in Hollywood che secondo me si parla ovviamente tanto dei nepo babies perché ovviamente il nepotismo non piace a nessuno ma i fidanzati ma sì no ma secondo me sai cosa in realtà impatta ancora di più in Hollywood essere amico di nel senso pensa a Leonardo Di Capri e Scorsese loro lavorano insieme più per il fatto che sono si conoscono si vogliono bene lavorano bene insieme più per il fatto nel senso Di Capri è un grandissimo attore e Scorsese è un grandissimo regista però ci sono ci sono quei casi di attori che magari vengono presi non tanto perché sono bravi ma perché sono lavorano bene con un determinato regista ma ormai lo sai che Di Capri cioè con lui con Martin avrà fatto tipo 200.000 film cioè capito ormai è il suo regista lo chiamano ok ma poi il mio era l'esempio più sbagliato perché sono entrambi dei mostri quindi però anche il fatto quanto influisce essere la fidanzata di un regista è importante in realtà in generale il fatto che i rapporti umani influiscono all'interno io l'ho sempre detto con questo qua nel campo artistico raga è fondamentale perché se tu devi collaborare con una persona che non ha idea di chi sia non è conosciuta e devi collaborare con un altro che invece è già conosciuto ti trovi c'è già feeling nel senso paradossalmente non è che per fare cineforum abbiamo fatto un appello online mandati curriculum per chi vuole fare co-speaker paradossalmente è più ingiusto tra virgolette una cosa come DiCaprio che viene scelto come attore semplicemente perché è amicone di Scorsese nonostante siano entrambi dei grandi artisti piuttosto che la figlia di Johnny Depp che ok è stata inserita ma poi si è fatta il culo per diventare una brava attrice ma perché sono situazioni però io non sono d'accordo perché sono situazioni diverse non è sbagliato non è sbagliato secondo me ha più impatto quella roba lì e quindi è più tra virgolette sbagliato secondo me no perché lì alla fine perché lì Leo e Martin probabilmente avranno a fare quella The Wolf of Wall Street noi i nostri amici Leo e Martin ti ripeto poi è un esempio sbagliato perché non me ne vengono altri però ci sono casi in cui colgo l'occasione per per prendere questa cosa come esempio cioè è un esempio in cui hai nasce un progetto con una persona che conosci che avete un'idea e dice la sviluppiamo insieme cioè non è che devo fare per forza un cast perché se no non è corretto nei confronti dell'umanità di tutta la categoria attoriale sono i progetti artistici nascono così anche dal punto di vista musicale ora abbiamo dietro chi ne sa più di noi però anche dal punto di vista musicale nascono così i progetti cioè non è che uno non è che Denver manda fa un annuncio su Job qualco Job Art e dice cercasi produttore musicale per fare il nuovo disco di 361 per dire no cioè non è che succede così quindi la stessa cosa funziona ad Hollywood raga però quanto influiscono anche i nemici ad Hollywood ad esempio i nemici no perché stavo pensando cioè adesso che ci sono state le nomination agli Oscar che adesso adesso ne parliamo appunto sto introducendo io bravo che gancio Sara bravissima intanto cambia la grafica ok abbiamo pure il cambio grafica va già pronto? ma ad esempio Margot Robbie bravissima attrice stupenda perfetta anche New York può si dire sì infatti è Dio ok perché non è mai stata candidata agli Oscar perché? non è stata candidata agli Oscar sì no quest'anno sì per Blond c'è Babylon lei no come attrice protagonista o supporter mi pari di sì scusa fammi controllare ragazzi no ragazzi se è così conveniente la sala con la Caudia che è vero mai nella vita non è mai stata candidata solo per la bellezza se non vuoi candidarla per la bravissima questa cosa non va bene? no non va bene perché stai parlando di Margot Robbie non di Giuseppina nonna vabbè ho capito anche Leo ci ha messo un po' di anni sì sono scemo esatto pensavo io avevo nella testa Margot Robbie al posto di Anna De Armas no è Anna De Armas scemo me perché ho social blonde con bionda esatto adesso non so non mi ricordo fammi vedere chi è che c'è tra adesso a me non fanno un pazzire cioè a parte non sono molto fan di quelli che sono candidati quest'anno allora aspetta prima di io volevo partire dal miglior film però così subito la migliore categoria ce la spoileriamo no però voglio andare a vedere la categoria migliorattrice per vedere chi è che c'è ma ce l'ho sotto mano guarda eccola qua Kate Blanchett per Tar Anna De Armas per blonde Andrea Riceboro per To Leslie Michelle Williams per Fablesman e Michelle Yeo per Everything Everywhere Allora per esempio questo potrebbe essere il classico caso Leonardo Di Caprio Leonardo Di Caprio sì Leonardo Di Caprio è stato cioè ci ha messo 2000 anni perché è capitato magari nell'anno in cui altri 5 hanno fatto performance della Madonna e quindi lei che magari è una bellissima attrice ha fatto anche una buona performance però sì ma quanti anni cioè ogni anno c'è un suo film tu quando gli avresti dato l'Oscar a lei per quale film The Wolf of Wall Street gli avessi dato l'Oscar The Wolf of Wall Street sì come so dietro ci sono i fan di The Wolf of Wall Street non posso no 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 oppure no 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 rimangio quello che hai detto quello sul pattinaggio Tonya Oscar 100% e chi è che ha vinto quell'anno l'Oscar vai a vedere che intanto noi guardiamo sarebbe interessante non so l'anno del film eh vabbè cercalo ma lì comunque hai un computer davanti se non vuoi cercare sul tuo cellulare che è un computer con una connessione internet anche utilizzabile è una tastiera è una tastiera no comunque già che ci siamo miglioratrice io ho sentito dire che Blanchett è molto quotata io ho visto infatti io ho visto i trailer non neanche tutti bravo ho visto i trailer neanche tutti ecco allora nel 2018 ha vinto ma no non sono sicura qui c'è scritto che ha vinto per cioè Frances ha vinto l'Oscar ha vinto l'Oscar non so per che film aspetta quindi ha vinto l'Oscar no no Marco Robbino l'ha vinto l'Oscar ha vinto in quell'anno stati no non posso dire così è famosissima chi ha vinto Frances Mac Dormand e chi cazzo eh ha 65 anni famosissima ah beh l'Oscar della pensione per per l'Oscar della carriera no l'Oscar miglioratrice di guardare miglioratrice miglioratrice sto prendendo in giro per tre manifesti hai a Ebbing ma che film è? no non so 2018 dovremmo vederlo però a questo punto io proporrei una visione ma onestamente Sara sticazzo no no mi devo sticcio questa è una battaglia che Sara porta avanti per Margot ok Margot è nei nostri cuori quando ci troveremo cioè Margot ha dieci anni in più di me quindi facciamo che io l'Oscar lo vincerò tra dieci anni quindi lei ne avrà io ne avrò tre è il tuo discorso è il tuo discorso agli Oscar lì vintererei al posto vincere la citerà tantissimo no tu quando vincerai la citerà io questo l'ho fatto per te Margot lo dedico a Margot solo per Margot che rosica perché non l'ha mai esatto è 40 anni che sono qui dentro no comunque ho visto qualche trailer effettivamente Cate Blanchett mi sembra vabbè ma ne avrà già vinto uno Cate basta io faccio un piccolo spoiler di questa classifica Everything Everywhere All at Once ha fatto incetta di nomination ma l'hai visto? eh sì non l'ho visto io ho visto il trailer però non sembra male punto a vederlo prima degli Oscar non sembra male ma era al cinema? che vuoi sappiate? non c'è ancora in streaming comunque casa di produzione A24 ma mi sa che l'hanno ridato il cinema non lo so non l'ho visto tra la vittoria i Golden Globe casa di produzione A24 che è una casa di produzione che ti ho già citato perché ha fatto ha fatto un sacco di film molto interessanti che dovremmo uno almeno dovremmo vederlo ok ok magari proprio questo magari proprio questo magari è una volta buona parla di multiverso tra l'altro questo film sì lo so è un film che è stato a quanto pare incredibilmente acclamato e secondo me potrebbe fare davvero incetta di premi secondo me qui se la contendono davvero Kate Blanchett e Michelle Yeoh per quello che ne so i film sinceramente non ne ho visto nessuno di quelli candidati no anche io Blonde ne ho sentito parlare solo male magari Anna De Arma sia stata pure brava però non lo so se ha voglia davvero di premiarla beh Michelle Williams a me piace come attrice però The Fable Man è un film assurdo bellissimo una merda incredibile una merda stratosfera stai scherzando? il Fable Man ho visto il trailer e mi è bastato il trailer è ridicolo il trailer è ridicolo il trailer è imbarazzante il trailer è imbarazzante il trailer dovrebbe essere abolito quel trailer dalla storia dei trailer mondiali il Fable Man è uno di quei film che dobbiamo vedere per gli Oscar Jacopo io gli ho spento il microfono parliamo di te perché non puoi dire una cosa del genere è uno dei film più belli che io abbia mai visto nella mia vita e vincerà l'Oscar ma per famiglia se vince l'Oscar quanto è vero il Dio non abbiamo molto tempo torniamo sulle premiazioni torniamo sulle premiazioni in cui Spielberg si auto proclama miglior regista dell'universo invece non è vero guardatelo non è vero non l'hai visto questa storia che lui non è vero nella famiglia ok allora miglior attore protagonista siete delle merda ma tu questo qua è censura all'opposizione no no perché stai dicendo cosa sbagliata stai dicendo cosa sbagliata perché non è vero è un film che logia il cinema tutti quelli che amano il cinema evidentemente tu non lo ami e lo fai soltanto perché è divertente parlarne ciao per favore ma per favore stai zitto ma sarà un film dobbiamo finire il trailer è inguardabile Jacopo parla solo se la live durerà un'ora e mezza è colpa sua allora rimanendo sugli attori non guardate Fableman sai cosa ti dico lo guardiamo apposta così lo posso insultare te lo giuro che lo insulterai soltanto perché vuoi insultarlo però dentro di te dirai il trailer è assolutamente insultabile invece no invece no invece sì invece no Alice guarda il trailer cosa vuol dire come si chiama The Fableman no eh Fable no Fable Vabbè Jacopino si è dato le cuffie non mi ero accorto Jacopo va avanti se era già andato voglio fare un discorso sull'attrice non protagonista vai su Parting Astros anche qui non è che abbia chissà che conoscenza delle varie performance però c'è Black Panther c'è Black Panther Wakanda Forever che io ho visto c'è Angela Bassett che interpreta la regina del Wakanda la madre di Black Panther eccetera sì allora e? a quanto ho capito è la più quotata davvero? sì e posso capire il motivo per il tipo di personaggio la recitazione la roba secondo me non so le altre no le altre performance ma secondo me vedendo il film non è esattamente una performance da Oscar ma quest'anno facciamo la live brava però sì ovvio allora possiamo possiamo vedere in diretta queste sì sì questo comunque mi piace questa preparazione ci sarà da incazzarsi ci sarà da incazzarsi sappi che vedrete tutto in diretta senza censura posso dire posso dire che io prego prego vivamente perché lui è nominato a miglior film ragazzi sì cazzo Avatar la via dell'acqua è nominato a miglior film ma come cazzo è possibile ma come cazzo è possibile possiamo dire che almeno gli effetti speciali se li merita ma va bene ma gli effetti speciali non è miglior film cazzo dai però con ordine dai allora vabbè saltiamo make up e costumi che onestamente tu stai andando dal basso stai andando sì dai facciamo un po' facciamo un po' misso adesso facciamo categorie un po' minori ok va bene sceneggiatura sceneggiatura non originale cioè niente di nuovo niente di nuovo sul fronte occidentale che tra l'altro film tedesco candidato l'hai visto? ok l'ultima volta che hai detto che era un bel film era avatar 2 tra l'altro è candidato come miglior film straniero e molti dicono che vincerà proprio quello anche perché è candidato pure come miglior film quindi è quasi matematico che venga io ho visto io ho visto la copertina del trailer ho visto film di guerra non ho neanche guardato il trailer non so tanto poi c'è Glessonion attenzione vorrei dire vorrei spendere due parole per questo film perché è molto importante è tratto da un libro molto importante della letteratura tedesca che parla della prima guerra mondiale ah della prima sì della prima guerra mondiale bene perché fanno sempre la seconda la prima cos'è niente di nuovo sul fronte orientale si chiama occidentale dell'est non so mi confondo io occidentale occidentale è un po' lenti come mi piacciono a me è tipo stile 1918 no 17 non l'ho visto tipo quello è male però io ho visto sottile linea rossa e volevo sparare mai più nella mia vita mai più con la ripresa come si chiama la ripresa piano sequenza piano sequenza più lungo di tutti i film che poi in realtà è un finto piano sequenza perché ci sono dei trucchi di montaggio no no quello è piano sequenza sì ma non è tutto il film in piano sequenza perché ci sono stati dei trucchetti però c'è le scene c'è la scena più lunga del piano sequenza lì sì sì niente è tipo 1917 guardatelo molto importante a livello storico e leggete il libro io piuttosto guardo Fableman così io posso inserire poi Glassonian Knives Out può starci come candidatura però onestamente come Vittoria non l'ho visto no tu l'hai visto Glassonian? sì ma carino un giallo un po' diverso dal solito sì ci sta perché c'era il tizio cioè il tizio l'attore che ha fatto c'era col delitto no che è il primo film sì infatti si chiama Daniel Craig esatto Daniel Craig molto sì carino guardabile sì ci sta per una serata c'è anche Top Gun no tu stai guardando non originale non originale non originale Top Gun tu l'avevi visto io l'ho visto Top Gun secondo te merita la candidatura? eh non l'ho visto gli altri però c'è lì prendevo l'aereo e andavo a Los Angeles la sceneggiatura no non esiste quindi diciamo che molto probabile vinca niente di un uovo sul fronte occidente no ho visto il trailer perché sto guardando sceneggiatura originale cioè Women Talking non so cosa sto guardando sceneggiatura originale gli spiriti dell'isola con l'hai visto? non ho visto ma ho visto il trailer con Colin Farrell che è anche candidato a miglior attore e effettivamente sembra un film interessante dal trailer ok però magari allora teniamoci qualche film da vedere per la notte degli Oscar e anche Tar no io guarderei magari Fablemans se non l'hai già visto lo guardo Everything Tar quello con la Blanchett e gli spiriti dell'isola Everything Everywhere All at Once guardare questi che sta magari Tar no però Tar che non so nulla in realtà no Tar lo voglio guardare perché parla parla di una sorta di parla di musica di come si chiama quello che dirige l'orchestra mi ricordo direttrice d'orchestra era facile una direttrice d'orchestra però ha un ruolo particolare un ruolo più alto anche di non so a livello di opera di gestione tipo della scala se non è la scala è un altro teatro però insomma è interessante cioè mi sembra interessante siccome parla di musica io sono appassionato di musica e la suono e la faccio quindi la volevo guardare poi vabbè spiriti dell'isola Everything Everywhere All at Once il nome più lungo del mondo The Fablesman Tar e Triangle of Sadness quello è quello dei ricconi sullo yacht Triangle of Sadness mi sembra non ne ho idea vabbè lo avevo visto il trailer credo che Everything e Fableman siano i più favoriti da quello che ho visto per la vittoria come sceneggiatura dici sì sceneggiatura originale Everything Everywhere All at Once mi sembra una sceneggiatura molto molto tanto scusa ricercata cioè perché questa cosa dei multiversi poi è da capire perché ho sentito sia i logi sperticati che aspre critiche su sto film quindi magari lo vediamo è da vedere se vediamo una merda lo metto insieme a Fableman se facciamo una puntata insulti tutta insieme mi stupisce Fableman in sceneggiatura originale perché dovrebbe essere tratto almeno in parte dalla biografia di Spielberg quindi non è teoricamente originale non so non so non sono in questi ticismi non sono fortissimo però vabbè ho visto che Babylon non ha preso un cazzo se non miglior colonna sonora sì ma ma sai cosa ho visto ho sentito parlare malino in realtà sai cosa ho visto ti dico io cosa ho visto The Whale ok che il protagonista miglior make up miglior make up no a parte a parte che Babylon ha preso miglior colonna sonora come come nomination ma anche miglior costume e in effetti dal trailer si vedeva che c'era The Whale anche questo ha miglior attrice non protagonista e anche miglior attore mi sembra miglior attore dovrebbe esserci un The Whale eccolo qua Hong Chao sì no scusami che è un'attrice no no sbagliato non c'è il miglior attore no miglior attore eccolo qua sì Brandon Fraser in The Whale miglior attore non è The Whale sì miglior attore gli spiriti dell'isola è Brandon no Brandon Fraser ah miglior attore scusa sì miglior attore The Whale ma sai che è diventato ha preso un sacco di chili stato di qua io mi ricordo questo Brandon Fraser so che c'è stato uno scandalo tipo ha preso non so se ha preso dei chili per fare il film o lui Sara tu sai cosa è successo con Brandon Fraser di recente no zero perché ho sentito che c'è stato uno scandalo qualcosa no non so nulla ok poi ah qui c'è una categoria che mi tocca molto nel cuore nel cuore cos'è miglior film animato attenzione lo ritrovo attenzione che io ho saltato a pie pari perché vabbè perché c'è ovviamente che vincerà il tuo Guglielmo del Toro abbiamo Red della Pixar The Sea Beast di Netflix Il Gatto con gli Stivali 2 l'ultimo desiderio della Dreamworks Marcel in the Shell Marcel the Shell with Shoes On marana santa ma Marcel the Shell with Shoes On io non ho capito perché è stato candidato come film di animazione se è un film live action con dei personaggi animati all'interno cioè c'è sta qua Brancolo nel buio queste conchigliette che sono protagonisti ok quelle sono animate però tutto il film è in live action non ho capito sai di cosa e poi Guillermo del Toro Pinocchio sicuramente vincerà lui così tu sei contento allora se non vince Pinocchio che secondo me meritava la candidatura come miglior film in generale tra le altre cose ma lasciamo stare se non vince Pinocchio come miglior film d'animazione basta non dico cosa fare in diretta però non vorrete vedere però se proprio deve perdere spero perda dal gatto con gli stivali 2 c'è un corto italiano perché secondo me anche quel film merita tanto l'ho visto di recente animazione molto figa ti consiglio di vederlo secondo me ti piace mi sa che non ho visto neanche l'uno io ma l'uno non è neanche necessario poi non è troppo collegato puoi anche vederlo un po' a sé stante tanto c'è giusto un legame con un personaggio che però ti viene abbastanza spiegato nel film e è un bellissimo film perché poi tratta anche in maniera molto matura per essere un film per bambini il tema della morte e dell'affrontare il diciamo il pensiero della morte che arriva e ti perseguita perché poi la premessa del film è che il gatto gli stivali ha nove vite solo che arriva a perdere tutte e otto e quindi deve vivere l'ultima vita si trova un po' in questa situazione in cui ha il terrore che dramma di morire e secondo me è affrontata davvero bene come allora si lo voglio vedere e poi c'è un'animazione tu hai presente ovviamente l'animazione classica Dreamworks molto standard qui hanno invece adottato uno stile molto peculiare innanzitutto con un 3D che sembra quasi tu l'hai visto in 3D no 3D nel senso animazione 3D un'animazione 3D che è un po' più diciamo quasi acquarellosa non so come dirti è quel 3D un po' un po' self shading adesso non so non riesco magari a spiegarti bene però è molto particolare poi ci sono le scene d'azione che hanno tutta una tecnica particolare anche abbastanza ripresa dagli anime giapponesi e con ad esempio le linee dinamiche inquadrature molto particolari che seguono il personaggio nell'azione e soprattutto quando ci sono le scene più concitate c'è il frame rate che si riduce per dare ancora più l'effetto dinamico d'azione che secondo me rende davvero bene in quel film ed ha tanto che la Dreamworks non tirava fuori qualcosa di così interessante secondo me a livello di animazione la Dreamworks ha fatto ha fatto Dragon Trainer di cui stiamo parlando tra l'altro c'è anche ti spoilerò sta cosetta no è una roba stupida all'inizio del film sai che c'è il solito logo della Dreamworks l'hanno rifatto ti dico solo che c'è una nuova una nuova scenetta animata quindi io posso guardarmi il 2 senza guardare l'1 sì ma vai tranquillo tanto ripeto c'è giusto un collegamento con un personaggio che però ti viene già spiegato nel film e ti va benissimo così ok siamo in chiusura c'è un corto italiano nominato vabbè sì corti però vabbè capito scusa però italiano vabbè di patriotismo cazzo le pupille si chiama le pupille ok teniamo la mente sai qualcosa di sto so che so che parlava no me lo sono dimenticato che l'ho letto prima di venire qua parlare anche dei documentari no direi che direi che basta perché vabbè se vuoi parlare al volo di miglior film ma ne abbiamo già detto vabbè sì allora la via dell'acqua parlare di miglior regista e miglior film adesso veloce abbiamo i spiriti dell'isola con martin stai guardando stai guardando cosa miglior film o miglior regia miglior regia miglior regia ok poi Daniel Schneier allora gli spiriti dell'isola Daniel Scheinert e Daniel Kwan per Everything Everywhere Ok quindi questi due sono pienamente d'accordo e anche Tar e anche Tar ho visto il trailer e insomma non puoi giudicare un film dal trailer ho capito l'unico l'unico elemento che ho in questo momento sono i trailer però adesso beh ma dal trailer già posso vedere delle scene delle cose cioè si può buttare c'è anche un suo montaggio a sé stante il trailer va bene va bene ok puoi giudicare propriamente la regia ma è ovvio che no sicuramente The Fableman si farà cagare Todd Field per Tar e Ruben Ostlund per Triangle of Sadness qui comunque tutte e cinque dai sono sembrano potrebbero darlo a Spielberg come a Everything secondo me perché davvero sto Everything è osannato da chiunque e molti lo danno proprio come vincitore di qualunque cosa quindi non dico che vincerà tutti i premi però buona parte miglior film abbiamo niente nuovo sul fronte occidentale che piace all'Alice esatto Avatar la via dell'acqua che non piace a noi tra l'altro specifico nel momento in cui un film straniero è anche candidato a miglior film è quasi certo che vince la categoria miglior film straniero Alice potrebbe vabbè Avatar la via dell'acqua che non piace a noi gli spiriti dell'isola Elvis che hanno fatto era nominato lui forse eccolo qua si miglior attore si Everything Elvis mi ha sentito parlare molto bene è uno uno di quei biopic sui cantanti famosi che però è riuscito ad avere molto successo Bohemian Rhapsody qualche anno fa e quello è stato più criticato invece Everything Everywhere All at Once The Fable Man Star Top Gun Triangle of Sadness e Women Talking ripeto scandalo che non ci sia Pinocchio scandalo che non ci sia Pinocchio ma soprattutto Everything ti ho detto guardiamoci guardiamoci quattro film prima di ti ricordo l'anno di Parasite che vinse qualunque cosa Parasite è capolavoro vinse tutte le categorie principali miglior film miglior regia miglior sceneggiatura originale miglior film straniero lì c'è proprio il colpo grosso Parasite è un capolavoro sì 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 ma se le meritate tutte adesso vediamo lo vediamo e poi giudicheremo quando è che sono le live tool degli oscar a bo vediamo se riusciamo a averle in diretta vediamo si terrà il 12 marzo di domenica 12 marzo attenzione quindi state sintonizzati perché faremo direttamente faremo una diretta ovviamente per queste live degli oscar come l'anno scorso queste settimane ci organizzeremo per bene faremo una roba molto figa ancora di più dell'anno scorso e vedrete e basta rimanete sintonizzati rimanete qui con noi per le prossime settimane intanto giovedì prossimo torniamo a recensire non mi ricordo cosa qualcosa credo Capitanuncino può essere Huck Capitanuncino sicuro non lo so oddio non lo ricordo forse era forse avevamo Blade Runner era Blade Runner te lo dico subito guarda no non te lo dico subito perché non lo trovo fai niente niente ragazzi come non detto come non detto ci vediamo settimana prossima sempre in diretta ah no Huck è vero sempre in diretta qui alle 15.30 e niente ciao a tutti Huck devo rivederlo dopo tanti anni ciao